La lana è estremamente delicata. Molti capi riportano sull'etichetta non asciugare in asciugatrice. AEG con la tecnologia Absolute Care certificata Woolmark Blue rivoluziona tutto. Per il test abbiamo usato due maglioni di lana uguali, uno messo nell'asciugatrice AEG con Absolute Care e l'altro in un prodotto della concorrenza. Grazie ai movimenti precisi del cesto, gli restano aderenti al cesto per un'asciugatura delicata. Nell'asciugatrice concorrente i capi urtano il cesto. Il sistema AEG ha preservato la forma e l'aspetto del maglione, mentre l'asciugatrice concorrente ha stropicciato, infiltrato e danneggiato le fibre. AEG ridefinisce il concetto di asciugatrice, rendendo possibile asciugare in totale sicurezza anche i più delicati capi in lana. Grazie a tutti.